Salve a tutti. Salve a tutti. Non è questo caso. Vi racconto questa storia perché al posto mio un'altra persona sarebbe potuta diventare vittima di quella setta senza nemmeno accorgersene. Prima di esporvi l'argomento vorrei dirvi una cosa importante, anche se può sembrare l'ennesimo luogo comune. Io non faccio questo video contro le persone che appartengono alla congregazione, o perlomeno la maggior parte di esse. Perché sono in buona fede, sono indottrinate, senza saperlo, e sono istruite per indottrinare anche gli altri, e non si rendono conto di stare indottrinando gli altri. Lo so è contorto, ma conoscendo varie persone che appartengono a quella setta vi posso assicurare che difficilmente trovate qualcuno che si rende conto di quello che fa persino ai piani alti, perché una volta messa in moto la macchina non c'è bisogno che ci sia qualcuno in cattiva fede che manipoli i sottoposti. Praticamente chi è stato indottrinato per primo, progredisce nella gerarchia della congregazione e si occupa di indottrinare gli altri. Di solito io ritengo che non è vero che le mele marce siano poche, anzi, io ritengo che le brave persone siano come le mosche bianche. Nel caso dei TDG c'è tanto controllo da parte dei vertici della setta, quindi la maggior parte dei membri sono brave persone. Fino a prova contraria, perlomeno. Ho conosciuto i TDG quando sono venuti a citofonare a casa. Io a differenza della maggior parte delle persone non ho chiuso la porta, a me interessava sapere cosa avevano da dire sulla Bibbia. Io credevo che la differenza tra loro e i cattolici fosse che i primi interpretassero la Bibbia alla lettera. I cattolici invece si avvalessero anche della tradizione, o di studi vari sulle esegesi di cui non sono nulla, e nemmeno allora ne sapevo niente. Sapevo che c'erano dei problemi a leggere la Bibbia alla lettera, riguardo il rapporto fede-scienza oppure che ad esempio Dante Alighieri parlava di lettura allegorica. Anche perché più e più volte nella Bibbia ritrovavo metafore, simboli, eccetera come il numero 3 e il 7, oppure le parabole e l'Apocalisse. Io però credevo che i TDG avessero una corretta interpretazione letterale della Bibbia ed ero curioso di sapere cosa dicessero. Per cui credevo di essere nelle condizioni di poter ascoltare con interesse i TDG senza esserne influenzato. Io sapevo che loro avevano regole assurde come il rifiuto delle trasfusioni di sangue, o il fatto che non festeggiassero i compleanni, ma conoscendo i cattolici credevo che nemmeno loro se ne fregassero delle regole. La cosa importante da dire è che alla mia porta aveva suonato un testimone di Geova abbastanza giovane, bravo nel parlare e nel relazionarsi. Anche nell'aspetto è insospettabile, sembra un bravo ragazzo, tranquillo, onesto, simpatico, eccetera. Probabilmente, a pensarci bene, potrebbe essere un pioniere, non un semplice proclamatore. Come dicevo prima molto probabilmente questo è veramente un bravo ragazzo, in buona fede, che non si rende conto di quello che fa. Innanzitutto lui non si è presentato alla mia porta come testimone di Geova, non ricordo di preciso cosa mi disse e come si è presentato la prima volta. Ma ovviamente si capiva che era testimone di Geova. Io non ho mai fatto entrare nessuno di loro dentro casa mia, abbiamo sempre parlato di sull'arco della porta, o fuori dalla porta. Sono passati anni e quindi non ricordo bene. Oltre le pubblicazioni mensili, comunque lui leggeva e commentava quel libricino giallo che si chiama Cosa insegna realmente la Bibbia. Dopo un po' di tempo me ne regalò una copia. Ora ne hanno sostituito con uno nero. All'inizio lui mi parlava di argomenti che erano grossomodo in comune con le altre religioni, come ad esempio se Dio è insensibile e crudele, se Dio si prende cura di noi. Iniziai a capire che c'era qualcosa che non andava quando lui mi disse che secondo lui la Bibbia avesse 66 libri. Queste cose erano scritte nelle primissime pagine di quel libricino giallo. In seguito scoprì che i cosiddetti studi biblici consistono nel leggere, accettare a criticamente e ripetere a pappagallo le cose dette nel libricino. La Bibbia la prendevano di rado, al massimo per leggere una o due citazioni per farti credere chi ci sia confermo nella Bibbia di ciò che viene detto nel libricino. Oggi non sono più costretti a prendere la Bibbia, usano direttamente l'app, sia per la Bibbia che per quello che una volta era il libricino giallo, che ora è nero. Questo ragazzo a differenza di tutti gli altri, ascoltava apparentemente con interesse quello che dicevo. E quando dicevo qualcosa che era in contrasto con i tdg lui non diceva nulla. Annuivei faceva un'espressione con il viso che lasciava intendere il fatto che avesse detto qualcosa che lo metteva a disagio. Ma questo non interrompeva la conversazione, e nemmeno i nostri incontri, noi continuavamo a parlare tranquillamente e a vederci le volte successive. Questo è un particolare interessante, perché parlando con lui non mi diceva mai che sbagliavo, lui ascoltava quello che diceva. Magari faceva fatica digerire le cose che andavano in contrasto con le dottrine geoviste, ed evitava di rispondere con la Bibbia per cercare di dimostrare che sbagliassi. Io leggevo con interesse le loro pubblicazioni, soprattutto quel libricino dorato di cui vi parlavo prima. Nel tempo sono venuti altri testimoni di Geova al posto di questo ragazzo e ascoltavo con interesse tutto quello che dicevano. Io più leggevo le loro pubblicazioni, più mi informavo su internet e più aumentavano le domande da fare a loro. Una volta uno di loro mi disse ci dai anche i compiti a casa. Con loro talvolta capitava anche che ci facessimo certe risate. Come quella volta in cui uno di loro mi parlò delle adunanze e io pensai subito al filander e lui mi rispose dicendomi sì, come no, e poi ci tagliamo la testa. Oppure un'altra volta mi disse che i testimoni di Geova in servizio andavano sempre in due, e io risposi come i carabinieri e ci mettemmo a ridere. A parte questo, io nel tempo continuavo a fare domande sulle loro posizioni dottrinali, erano gli unici che conoscessi che parlassero di Bibbia. Anche se nel tempo erano più le domande polemiche che facevo, come ad esempio perché mai fossero proibite certe cose, o perché dicevano che Gesù non era morto in croce, fu la mia professoressa di religione a scuola a dirmi che la loro Bibbia era manipolata. Fu così che feci delle ricerche. Io nel tempo scoprivo cose sempre più assurde. Avevo scoperto che per loro Gesù era morto su un palo, che per loro le donne dovevano essere sottomesse agli uomini, che agli uomini è proibito portare la barba o i capelli lunghi. Infatti loro sono gli unici a rappresentare Gesù con i capelli corti. Ho scoperto che in passato loro rappresentavano Gesù senza barba, mentre il cattivo ladrone con la barba, loro presentavano il problema in questo modo. Può un Dio crudele permettere di far soffrire qualcuno in eterno? Non so la risposta, ma ciò non toglie che nella Bibbia si parla di Genna, che consiste in un fuoco eterno. Loro negano la vita dopo la morte, tranne per chi sarà risuscitato dopo il giudizio universale, questo però è un argomento controverso, non conosco la risposta non sono un biblista nemmeno un'esegeta, ma quello che ho capito è che secondo la Bibbia la resurrezione celeste, non terrena, ed è l'obiettivo di tutti i credenti, non solo di 144.000. Io più leggevo il loro libricino giallo e più scoprivo cose sempre più assurde, all'inizio non c'erano grossissimi problemi. All'inizio viene detto che la Bibbia ha 66 libri, anche il canone protestante ha gli stessi 66 libri e le loro pubblicazioni sono uguali in tutto il mondo, cambia solo la lingua, quindi un protestante non avvertirebbe alcuna differenza con il proprio credo, e dato che la maggior parte dei credenti in America è protestante. Allora non dovrebbero esserci problemi. In teoria i cattolici dovrebbero obiettare dicendo che la Bibbia ha 73 libri, ma ho scoperto che molti cattolici non lo sanno. C'è da aspettarselo, perché i cattolici sono allergici alla Bibbia. Ci sono varie cose nel libricino che vanno in contrasto con il credo della maggior parte dei cristiani, come l'idea seconda cui vivremo per sempre su una terra paradisiaca, ma magari un cattolico non ha mai sentito parlare di cosa consiste la resurrezione di cui si accenna anche nel credo che si dice in Chiesa. Oppure si parla del fatto che i morti non sono consci di nulla, e questa è una tesi che i protestanti condividono. Più in là vengono dette cose del tipo che solo 144.000 andranno in cielo, che la donna deve essere sottomessa, che bisogna astenersi dalla politica e che non bisogna donare sangue e ovviamente non ricevere trasfusioni. Diciamo che ci sono cose che magari all'inizio possono essere in contrasto con le proprie dottrine ma possono essere belle da credere. Come la resurrezione e la vita eterna in un paradiso terrestre, la fine delle ingiustizie, ma nel tempo ci si immerge sempre di più in cose assurde. Solo in appendice vengono dette cose del tipo di non festeggiare il Natale e i compleanni. Diciamo che loro usano la strategia della rana bollita, ci sono dei video sul web che spiegano cosa sia. In breve, con essa ti addentri progressivamente nel loro mondo, e quando te ne accorgi è troppo tardi. Io una volta feci una domanda che fece cadere la faccia a terra ai due proclamatori che erano venuti alla mia porta. Uno dei due era il solito ragazzo bravissimo e preparatissimo che veniva sempre. Io chiesi a loro se era vero che per un uomo testimone di Geova era proibito portare i capelli lunghi. La loro faccia cadde a terra, l'imbarazzo era palpabile. Il ragazzo mi dice che non era proprio una regola, l'altro mi dice che Gesù aveva i capelli lunghi. In realtà loro rappresentano Gesù con i capelli corti. Il loro imbarazzo derivava dal fatto che avevo già i capelli lunghi all'epoca. Quindi per loro prendere la Bibbia e prendere quei passi scritturali fuori dal contesto. Per spiegarmi la loro stupida regola sarebbe potuto essere stato fatale. Nessun testimone di Geova è mai venuto da me a dirmi che nella Bibbia c'è scritto di tagliarmi la barba e i capelli altrimenti verrei distrutto ad Armageddon. E non parlo di chi viene alla porta di casa, ma soprattutto di chi mi ha fermato per strada. In generale, nessuno viene a casa vostra e vi dice di non donare sangue, non ricevere trasfusioni, o di non festeggiare il Natale, o cose simili. Io una volta mi preparai anche un foglio pieno di controobiezioni da presentare a una ragazza TDG che avevo conosciuto per strada. Lo so, un'altra persona al posto mio ci avrebbe provato, ma nella migliore delle ipotesi ai TDG non è permesso frequentare una persona del mondo. Queste obiezioni riguardavano le manipolazioni della loro traduzione riguardo alla divinità di Gesù. Feci una figuraccia, perché non sapevo che solo la Bibbia grande, quella del 1987, con la copertina marrone, contenesse le note a margine l'appendice. Insomma quella che Giuseppe Longo usa per alcuni suoi video per mostrare le manipolazioni della loro traduzione. Ma all'epoca Giuseppe Longo ancora non faceva video. Incontrai quella ragazza solo due volte non riuscì nemmeno a fare breccia tra il suo indottrinamento. Ero poco preparato. Per questo io nel tempo ho raccolto il maggior numero di informazioni possibili. Un'altra persona al posto mio sarebbe potuta essere vittima della setta. Perché avendo conosciuto un bravissimo TDG, preparato soprattutto nelle relazioni con le persone.